Questa notte a Balcanneto in via Pergolesi sono andate a fuoco due auto. Sono prontamente intervenuti i carabinieri e la squadra 26A dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova, che hanno spento le fiamme. Dei primi accertamenti pare che il fuoco sia stato causato da un cortocircuito, sviluppato da prima autovettura, fuoco che si è poi propagato alla vettura che era parcheggiata subito dopo. Causa imprecisata, non è stato rilevato nulla di benzina o altro. Quindi nessun atto vandalico secondo lei? Lo escluderei, non sono stati trovati niente.